ciao sono stefano e oggi alleniamo spalle e braccia con il calisthenics ricorda sempre che nell'esecuzione di un esercizio di calisthenics è più importante la forma dell'esecuzione piuttosto che il numero di ripetizioni vedrai che col tempo allenando di regolarmente arriveranno da sole ma adesso vediamo come funziona la nostra scheda ciao Grazie per la visione 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 Grazie per la visione